Per accedere al sito WordPress bisogna collegarsi alla pagina di login, inserire un nome utente e password e semplicemente entrare. In questo modo entreremo all'interno dell'area di amministrazione di WordPress che consente di fare una serie di attività di gestione del sito. La piattaforma di WordPress è una piattaforma molto facile da utilizzare, però che consente già di realizzare la maggior parte delle attività di gestione ordinaria senza avere necessariamente delle grandi competenze tecniche. È importante però capire più o meno qual è la struttura del sistema. Questa è l'area di amministrazione come si presenta all'entrata. Nella parte a sinistra ci sono i vari link e i vari collegamenti alle sezioni del sito e nella pagina chiaramente vengono aperte le funzioni stesse quando vengono cliccate. La cosa più importante da capire di WordPress è che fondamentalmente esistono due tipologie di contenuto, i contenuti sotto forma di articoli e i contenuti sotto forma di pagine. In realtà le funzioni che sono presenti per entrambe le categorie sono funzioni simili, ovvero funzioni di formattazione, quindi la possibilità di inserire dei testi, di inserire delle immagini e chiaramente di andare a modificare l'impaginazione del sito stesso. In realtà tra articoli e pagine la più grande differenza è data da come viene impostato il dominio, scusate, da come è impostato il tema. Il tema di WordPress è una specie di modulo, di modello, di layout che va a definire l'impaginazione del sito stesso. Quindi il tema che cosa fa? Dice al sistema come deve essere impostata la pagina, come devono essere impostati i vari elementi, in modo che quando si va a compilare per esempio il modulo di inserimento di una pagina o di un articolo, il sito sappia come deve essere impaginato. Quindi ci sarà la sua pagina di copertina, il titolo formatato in un certo modo, il testo inserito in un certo modo. In questo modo è possibile fare gli aggiornamenti ed è possibile anche capire come inserire i contenuti e modificare eventualmente in futuro il sito per avere un'impaginazione diversa sfruttando i contenuti già esistenti. Cambiando tema, in poche parole, si cambia tutta l'impostazione del sito mentre i contenuti rimangono validi. Chiaramente non è così automatico perché poi nella impaginazione specifica delle pagine magari si fanno anche delle modifiche più strutturali all'interno del contenuto stesso e quindi cambiando tema poi bisogna modificarle. L'aggiornamento più frequente del sito è quello che riguarda gli articoli per l'appunto in quanto la logica qual è? Che le parti strutturali, quindi le parti più statiche, quelle che hanno meno bisogno di essere modificate rapidamente vengono normalmente gestite con le cosiddette pagine quindi che corrispondono fondamentalmente alle pagine web per capirci. Mentre la parte più editoriale, quella che sarebbe il blog fondamentalmente da cui è nato il concetto di Wordpress viene gestito con gli articoli. Poi la logica di modifica in realtà è abbastanza simile. Allora, per andare a inserire un articolo è sufficiente entrare nell'area di amministrazione cliccare su aggiungi nuovo e andare a compilare il modulo che ci si presenta. Questo si fa in maniera molto semplice. Qui si inserisce il titolo nell'area titolo nella parte, diciamo, sottostante si inserisce il testo dell'articolo io adesso andrò a prendere un testo finto per facilitare la cosa si può fare chiaramente anche copia e incolla all'interno del testo dell'articolo possiamo utilizzare le funzioni base di formattazione quindi selezionare il testo, ad esempio mettere un grassetto cliccando il bottone come in Word selezionare un testo e mettere un corsivo oppure andare a barrare si possono creare degli elenchi anche in questo caso il funzionamento è quello di Word per cui si può, per esempio, cliccare su elenco puntato e andare a scrivere i testi oppure si può creare un elenco numerato nella stessa maniera quindi clicchiamo sul bottone e poi andiamo a scrivere oppure ancora possiamo prima scrivere i vari punti con l'invio tra uno e l'altro poi andiamo a selezionare il testo andiamo a cliccare il bottone e lui ci ritrasforma in punti elenco altre cose che si possono fare a livello di formattazione standard è per esempio l'inserimento di una citazione che è un testo che verrà formattato specificatamente in modo da essere evidenziato e chiaramente il modo in cui la citazione viene pubblicata dipende dal tipo di template si possono inserire delle righe orizzontali cliccando il bottone apposito si può modificare l'allineamento del testo è previsto l'allineamento a sinistra, centrato o a destra questo è un aspetto che consiglio di guardare il meno possibile perché fondamentalmente il testo dovrebbe già essere formatato secondo quelli che sono i criteri del template per cui andare a modificarlo potrebbe non sempre essere una cosa efficace per quanto riguarda i link è molto semplice anche in questo caso si può selezionare il testo che si vuole rendere attivo cliccare sul bottone del link poi all'interno di questa finestrella che compare si può inserire o l'url quindi l'indirizzo internet se si tratta di un sito esterno a cui si vuole mandare il collegamento quindi per esempio questo e a questo punto è sufficiente è già attivo il link oppure se si vuole linkare una pagina interna del sito con lo stesso meccanismo si può creare un link interno mettendo il nome della pagina il sistema ti cita le pagine che corrispondono alla tua ricerca e ti consentono di fare il link di attivare il link interno in maniera automatica cliccando su applica il link è creato dal punto di vista quindi del contenuto queste sono le caratteristiche principali chiaramente ci sono altre funzioni per esempio abbiamo la possibilità di utilizzare i livelli del testo quindi non soltanto testo semplice sotto forma di paragrafo che è quello che viene impostato automaticamente ma anche mettere delle tipologie di titoli fondamentalmente il concetto è molto simile a quello di Microsoft Word per esempio un titolo di livello 1 un titolo di livello 2 un titolo di livello 3 un titolo di livello 4 se andiamo a cliccare sul tasto di anteprima abbiamo la possibilità di vedere una prima visualizzazione di come viene inserito l'articolo vedete che l'impaginazione è un'impaginazione data dal template quindi il font, il carattere, le caratteristiche del testo sono quelle del template che vengono impaginate in maniera coerente quindi qui avremo il titolo qui il nostro testo i nostri elenchi questa è la citazione come viene impostata su questo template la riga orizzontale e queste le varie tipologie di titolo è abbastanza consigliabile utilizzare i livelli di titolo soprattutto con delle parole chiave pertinenti perché le parole chiave che vengono inserite nei titoli e non nel testo semplice o così come le parole chiave che vengono inserite nei link aiutano il posizionamento sui motori di ricerca un'altra cosa importante dell'editor è la possibilità di inserire delle immagini quindi noi abbiamo la possibilità all'interno del testo di andare a inserire delle immagini che poi vengono inserite in maniera normale il Wordpress funziona tramite la cosiddetta galleria media per cui sono già caricate nel sito tutte le immagini utilizzate nel sito per cui quando si vuole inserire l'immagine si ha la possibilità o semplicemente di andare a selezionare un'immagine già presente per cui cliccare e inserirla e poi si ha la possibilità andando in modifica oppure utilizzando i bottoni di andare a variare il tipo di impaginazione andando in modifica qui vedete c'è la possibilità di inserire una didascaria che anche questa verrà visualizzata in relazione alla tipologia di template un testo alternativo che è il testo che viene visualizzato quando si passa sull'immagine o quello che viene visualizzato quando l'immagine non viene caricata ed è anche quello che viene letto dagli strumenti di accesso alle pagine per esempio per i non vedenti poi si ha la possibilità di inserire delle opzioni di visualizzazione se si utilizza sinistra, centro, destra in pratica corrispondono agli allineamenti dell'immagine rispetto al testo se si inserisce nessuna l'immagine verrà contornata dal testo sopra e sotto si ha anche la possibilità di cambiare la dimensione utilizzando la dimensione reale dell'immagine una dimensione più piccola diciamo media o addirittura una miniatura che viene ridimensionata direttamente dal sistema oppure si può andare a inserire una dimensione personalizzata andando a dire proprio di che misura vogliamo che sia l'immagine l'immagine può essere linkata quindi o a un indirizzo quindi sempre una url che possiamo andare a inserire in questo modo oppure all'allegato per cui al file stesso dell'immagine o a niente altre caratteristiche non è il caso qui di andarle a valutare sufficientemente fare aggiorni e l'immagine viene inserita nell'articolo se andiamo in anteprima vediamo che l'immagine è stata caricata all'interno dell'articolo qui inserita la didascalia secondo i criteri di questo template chiaramente abbiamo la possibilità anche di caricare un'immagine che non è ancora presente sul sito la modalità è molto semplice ci si posiziona nel punto in cui si vuole l'immagine possibilmente si è già preparata l'immagine da caricare aggiungi media anziché andare a pescare nella libreria cliccheremo su carica file e andiamo a selezionare il file che desideriamo utilizzare come immagine selezioniamo un file qualunque adesso utilizzo un'immagine che non c'entra nulla ma solo a titolo di test le opzioni che dicevo prima abbiamo la possibilità di inserirle anche in fase di caricamento quindi se vogliamo la didascalia la media può essere inserita qui il testo alternativo la descrizione è anche in questo caso un testo che viene letto in realtà soltanto o dei dispositivi per non vedenti oppure dai motori di ricerca anche qui l'allineamento se c'è eventualmente un link è la dimensione adesso questa è molto grande per cui la posiziono come media inserisci nell'articolo e ho inserito la mia immagine successivamente se io decido che questa immagine deve essere linkata posso fare esattamente nello stesso modo che per il testo quindi andare a inserire il link così se nel link non ve l'ho detto prima vogliamo modificare il target vogliamo modificare se il link viene aperto in questa finestra o in una nuova finestra si clicca sul bottoncino delle impostazioni e si va a fleggare qui apre il link in una nuova scheda ed è bello che è fatto se noi andiamo a vedere di nuovo l'anteprima vediamo che c'è la nostra prima immagine la nostra seconda immagine più piccola in linea a sinistra con un link che apre una nuova scheda un altro fattore importante dell'inserimento dell'articolo sono le categorie le categorie ci danno la possibilità di definire dove per l'appunto l'articolo deve essere catalogato le categorie sono già disponibili nell'area delle categorie oppure possono essere inserite per esempio io qui clicco su consulenza e questo post andrà all'interno dell'area consulenza i tag consentono di inserire delle parole chiave diciamo tematiche che anche in questo caso possono aiutare una navigazione semantica e possono anche aiutare il posizionamento sui motori di ricerca i tag vengono evidenziati lateralmente sul tema di wordpress anche in questo caso in maniera diversa a seconda dell'impostazione del tema e ci consentono per l'appunto di dare una guida di significato quindi le aree di interesse dell'articolo per esempio qui io posso mettere formazione consulenza aziendale rachele soliera e via basta fare invio e vengono aggiunti se ne possono aggiungere quanti se ne vogliono anche in questo caso vado a vedere l'anteprima e vedrò che il template mi ha aggiunto qui i tag mi ha inserito la categoria l'autore rachele soliera quante visualizzazioni ci sono state i like adesso non è ancora stato visibile ultimo elemento particolarmente importante è l'inserimento dell'immagine in evidenza l'immagine in evidenza è l'immagine che viene utilizzata sia negli indici dell'articolo quindi negli indici del blog per cui in home page sia nella pagina stessa quando si decide cosa quando si visualizza l'articolo io ne prendo una già già pronta basta inserirla cliccando quindi su imposta immagine in evidenza e questa è l'immagine diciamo che rappresenterà il nostro articolo se clicco su pubblica all'interno dell'home page del sito abbiamo il nostro articolo c'è il nostro articolo in home page che viene visualizzato con la categoria che abbiamo definito con l'immagine di copertina e chiaramente cliccando andremo a vedere l'articolo immagine di copertina il titolo il testo e tutti i dati che abbiamo inserito i post correlati sono quelli che saranno stati inseriti nella stessa categoria a questo punto diciamo che l'inserimento dell'articolo è completato le uniche cose importanti da andare a definire sono lo stato di pubblicazione quindi noi possiamo andare a metterlo come pubblicato in attesa di revisione o bozza solo con pubblicato l'articolo sarà pubblicato per l'appunto se lo mettiamo in bozza viene salvato ma non viene modificato scusate non viene visualizzato si può inserire che sia pubblico progetto da password o privato in questo caso questa è una funzione che non che non si utilizza qui si vedono le revisioni si può modificare la data di pubblicazione quindi fare in modo che venga visualizzato con una data di pubblicazione diversa se vogliamo pianificare un articolo lo lasciamo come bozza quindi andremo a selezionare bozza e lo metteremo con una data di pubblicazione successiva a questo punto cliccando in pianificazioni l'articolo sarà pianificato per il 12 novembre lo stato diventerà pianificato non sarà visibile attualmente sul sito ma verrà reso automaticamente visibile soltanto alla data che avremo identificato quindi questo è molto comodo nel caso in cui volessimo inserire più articoli insieme fare in modo che vengano pubblicati di volta in volta e altri aspetti particolarmente importanti non ce ne sono questa funzione che è una funzione del tema significa se voglio inserire il post come post in evidenza e sono gli articoli che vengono visualizzati nel slider in copertina quindi qui noi abbiamo scelto di inserire soltanto il link alla pagina chi sono se voglio fare in modo che si attivi uno slider che va a inserirmi anche altri altri fattori lo vado a inserire come featured la gestione degli articoli è molto semplice se io clicco in tutti gli articoli ho la possibilità di visualizzare tutti gli articoli già caricati ed eventualmente andare a fare delle modifiche cliccando su modifica molto semplicemente chiaramente il funzionamento è il medesimo semplicemente che posso agire su dei testi e dei materiali che sono già stati inseriti le categorie possono anche essere inserite centralmente nell'area delle categorie andando a crearne modificarne a piacimento così e i tag possono essere riepilogati qui se ne possono anche inserire degli altri la visualizzazione del tag secondo tag più o meno popolari è una visualizzazione in cui la parola scritta in maniera più grande è chiaramente quella in cui ci sono più articoli più contenuti presenti di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra Grazie a tutti.